...troverete un luogo di laboratorio politico, di discussione, di creazione, di modi per non pagare la crisi. Tutto questo avverrà nelle assemblee che ci saranno a partire da stasera, alle 21, assemblea all'ex cinema Arcobaleno, da oggi Community Center Santa Insolvenza, per inventarsi dei modi per uscire dalla crisi, per parlare di autoriduzione di bollette, per cercare di trovare delle campagne per non dover più lavorare gratuitamente. Santa Insolvenza è la santa che ci libera da tutti i debiti, Santa Insolvenza è la guerriera che ci porterà a non dover più pagare il debito che altri hanno contratto, ma che si di noi vogliono imporre. Questo per noi vuol dire santa insolvenza. Abbiamo scopato uno spazio in piazza Renzo, stasera abbiamo un'assemblea a cui tutta la cittadinanza è invitata, non ci saranno sigle, non ci saranno gruppi, collettivi, partiti, è uno spazio che tutta la cittadinanza può attraversare, tutti e tutte possono attraversare il Community Center. L'idea dello spazio occupato di piazza Renzo è di fare delle assemblee costruite da tutti, da tutti e tutte per trovare dei modi per uscire dalla crisi. È una piazza coperta, una piazza simile alle piazze che abbiamo visto in Spagna, alle piazze che stiamo vedendo negli Stati Uniti. Questa piazza da poco, da ieri sera, c'è anche a Bologna. Il Community Center di Santa Insolvenza è nato ufficialmente da meno di 24 ore e già da oggi compie la sua prima assemblea. Salutiamo in questo momento il Critical Mass che ci ha invitato a partecipare alla loro iniziativa. Santa Insolvenza è la stanza che dice che no al debito. Come sapete non abbiamo in questo momento, santa in paradiso, ce ne siamo dovuti inventare noi uno per dire no al debito. Santa Insolvenza è una preghiera, è un esperimento che è già stato fatto e che invitiamo tutte le persone presenti a partecipare nuovamente. È la preghiera di Santa Insolvenza. Funziona molto brevemente che si dice la preghiera e poi tutta la gente fa da megafono umano alla preghiera. Santa Insolvenza, protettrice delle precarie e dei precari, dacci oggi il nostro reddito quotidiano e allontana da noi i nostri debiti perché non siamo noi i veri santa insolvenza, santa insolvenza, piena di rabbia, piena di rabbia, prega per noi i peccatori, la ricchezza che produciamo ma altri detengono, perché abbiamo diritto alla casa, abbiamo diritto alla mobilità, abbiamo diritto alla mobilità, abbiamo diritto ai saperi e abbiamo diritto al desiderio. Santa Insolvenza, che sei nei nostri pensieri, sia generalizzando il tuo nome e venga lo sciopero precario, non privarci della tentazione, ma liberaci dalla banca e dall'ufficiale giudiziario. Santa Insolvenza, occupato uno spazio, qua in piazza Renzo stasera, assemblea alle 21, siete tutti e tutte invitati a partecipare. Grazie della partecipare. Grazie della partecipazione e della preghiera. 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 dall'altra parte di questa piazza, siete tutti e tutte invitate all'assemblea di stasera alle 21 all'ex Gene Marco Baleno per l'assemblea del nuovo community center, una piazza coperta sullo stile di Madrid, sullo stile di New York per costruire tutti e tutte uscite dalla crisi. Buon pomeriggio a tutti. Siamo portando tutta la città di Santa Insolvenza, è qui tra voi per la quarta ormai apparizione di giro per la città di Bologna, la sala di Santa Insolvenza, la sala di chi dice no al debito e no alla crisi. Ieri sera un corteo di 2000 persone ha occupato uno spazio dall'altra parte di questa piazza, la piazza Renzo, per dire no al debito a costruire una piazza coperta in cui tutta la cittadinanza è invitata a partecipare. Immagina quella delle piazze di New York e quella delle piazze di Madrid in cui tutta la cittadinanza partecipava per costruire un'uscita della crisi. Santa Insolvenza oggi è qui per questo, per invitarvi all'assemblea di questa sera al community center che c'è in piazza Laetco, l'Enser Sciama Marco Baleno. Santa Insolvenza ha una preghiera che stiamo portando in giro in questi giorni e che stiamo declamando ed è qui che vogliamo nuovamente declamare la sua preghiera. Santa Insolvenza, santa Insolvenza, protettrice delle precarie e dei precari, protettrice delle precarie e dei precari, dacci oggi il nostro reddito quotidiano, dacci oggi il nostro reddito quotidiano.